Ciao a tutti ragazzi, sono Gabri Costa. In questa recensione vi farò vedere la seconda art gallery di Metaslag Anthology. Se avete completato Metaslag 2, ora si può vedere la seconda art gallery. Già iniziamo di brutto con questa immagine. Non so chi è questa donna e poi non ce l'ha un nome. Questo uomo brutto e cattivo si chiama Allen O'Neill. Qui sta affogando, non capisco perché tiene la bocca spalancata mentre è sott'acqua. Così bere tutta l'acqua, non va bene. Questo è il volto del generale Donald Morden, visto, ha la benda sull'occhio. Questo è il soldato che sta facendo la sua onda energetica, come Goku di Dragon Ball. Poi questo è il soldato nudo che sta sulla ciambella e con il bazooka. Qui sta volando con il missile legato alla schiena. Qui si illumina con la torcia, si fa a luce. Mamma mia, che schifo! Sto vedendo un soldato sudato fradicio mentre legge il suo libro. Questa sì che è una lettura sudata. Avete visto che impressione vedere Tharma Roving con gli occhi quando si leva gli occhiali. Poi qui Marco Rossi viene gettato nel pozzo. Qui viene assalito dai missili e si trasforma in un gargoyle. Un uomo pipistrello, spregevole e brutto. Sputa fuoco dalla sua bocca. Insomma, è terribile. E abbiamo visto le 15 immagini. Abbiamo visto la seconda art gallery di Metaslag Anthology. Vi saluto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Ci vediamo nel prossimo video. Non pensiate che sia finita qui perché ci aspettano altre art gallery da vedere. Grazie.